Offro 10.000 euro a chiunque sapra darmi le generalità di questo ladro. Nome, cognome, indirizzo, contattatemi in privato. Ad offrire una vera e propria taglia, Leonardo Peruzzi, titolare della GP Motors di Arezzo, che dopo aver subito un furto all'interno della propria auto, ha diffuso il video su Facebook e utilizzato i social network per arrivare al responsabile. Il furto è avvenuto a mezzanotte 45 del 5 maggio scorso. Le telecamere di sorveglianza private hanno ripreso tutta la scena. Il ladro arriva scavaccando con facilità il cancello di casa, si infila in auto, rovista, allungo e poi se ne va con la refurtiva. Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla legittima difesa, paradossalmente il proprietario, se se ne fosse accorto, chissà. Ad ogni modo i social sono ormai un fedele alleato in questi casi. I video in tutto due sono diventati immediatamente virali. Migliaia le visualizzazioni e decine le condivisioni e gli internauti diventano così detective a portata di click. Grazie. Grazie.